Ok, adesso che siamo quasi arrivati, vai. Prima no. Eh, prima no. Qui della metà della superficie complessiva dell'Alto Adige si trova a oltre 1500 metri sul livello del mare. Capperi! Wow! Quasi la metà della superficie agricola ha una tendenza superiore al 30%. Wow! Sciabolette! Ciò non di meno, infatti tutto il sfruttamento del verde non è un'attività vana e fine a se stesso. Il terzo terpino e subattino dell'Alto Adige è fatto da un'industria marchiera quasi alta. È delle lunghe tradizioni. L'agricoltura protegge il terreno dell'erosione, rappresenta un modello inestimabile per l'acqua e la coltivazione naturale conferisce al latte crudio un'aroma di freschezza che non è uguale del migliore preso posto per la produzione dei latticini alti oltesimi. Io voglio bere dell'alto. Io sono rimasto più della metà. Più della metà del Trentino Bello. Ah, ok. Più della metà del Trentino Bello è un'affermazione... Almeno, eh. Magari anche quattro quarti, quattro quinti. Cinque quarti. Quattro e mezzo, io, bisogna semplificare. Sì, sì. Il territorio del Trentino è composto dal territorio del Trentino. Uh! Un mio aereo o un po'. Aspetta, dov'è? È là. Qualcuno mi ha... Non sento. Ciao, Ale. Oh, ci sono degli slittinai. Mettiamoci qua. Dalla... Aria di sosta. E li vediamo sfrecciare. Vai, sfrecciate. Sfrecciate, ragazzi. Sfrecciate. Uh, ce n'è ancora. Questo è un fortissimo davvero. Sfrecciate. 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 Quello è della montagna, il Crin. Il Monte Fato. Il Monte Fato. Sai cosa c'è là? Il Monte Fato. Niente. Uh, un'altra discesista. Sono delle nostre rosse razziose. Sono un sacco di discesisti. Che traffico! Saremo arrivati circa in cima. Sarà la gente che ha finito di mangiare... Che chiacchiere sono? È l'una, sì. Più o meno. È il timing giusto per cibarsi. Comunque, questo è il Crin. Uh, va che bello.